Grazie a tutti. Stavamo andando bene e si è fermata, sono stato fermo cinque minuti e si è fermata così perché sono riscaldato i fili della panaliera sulla prova di notte, andando bene anche lì e sono stato fermo cinque minuti, ciao. Ultimi anche lì, è di buono che siamo arrivati in due. Grazie mille ragazzi, ti spiegherò tutta la realtà sia qua, sia lì, sia lì. Grazie mille ragazzi. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.